Salve, sono padre Luctor Cal, procuratore generale dell'Ordine Cistercense e monaco di Poblet, e sono qui per invitarvi a visitare proprio l'Abbazia di Santa Maria di Poblet. Il monastero, fondato nel 1155 nel sud della Catalogna, è stato per secoli il luogo di ricerca di Dio e di vita monastica, seguendo la regola di San Benedetto letta nella tradizione cistercense. Dopo 105 anni di abbandono per causa dell'espulsione dei monaci nell'Ottocento, la vita monastica fu ripresa nel 1940 e oggi a Poblet ci sono circa 30 monaci di tutte le età che pregano e lavorano all'interno di questo straordinario Cenobio, dichiarato Patrimonio dell'Umanità per l'UNESCO nel 1991. Poblet è di fatto il monastero cistercense abitato più grande del mondo e il visitante che ci avvicina può fare l'esperienza per qualche ora di essere immersi nella pace e il silenzio della Pazia, oltre che alla serena contemplazione della sua armoniosa, austera e semplice bellezza. La bellezza è stata sin dall'inizio compagna di viaggio dei monaci cistercensi. Una bellezza pura, strutturale, semplice, dove il gioco dei chiaroscuri provocati per una luce che arriva al monastero dall'alto invita il monaco e chi lo visita a cercare la fonte stessa di questa bellezza. Poblet è un chiaro esempio di come l'esperienza dell'incontro con Dio e la sua presenza nelle nostre vite si traduca nella costruzione di un complesso monastico di magnificenza sublime e armonia splendente nella più genuina semplicità. Una bellezza che dal cuore del monaco passa alla pietra dei muri e si estende verso i boschi e i campi circondanti creando un paesaggio che rafforza questa stessa armonia. Il monastero di Poblet vi accoglie al suo interno per mostrarvi il chiostro della Pazia e tutte le dipendenze che scandiscono la giornata quotidiana dei monaci, l'austero refettorio e la cucina, la biblioteca e l'armoniosa sala capitolare, il lunghissimo e bellissimo dormitorio e la chiesa vaziale, gioiello dell'arte cistercense. Venite a scoprire una esperienza spirituale fatta meraviglia con la pietra e la luce. Venite a sperimentare il silenzio e la pace della vita monastica che impregna pareti e muri del Cenobio. Venite a Poblet. Poblet, un dono di Dio per tutti, vi apre le porte.